Dallo scorso luglio il Centro Diaconale La Noce di Palermo ha una nuova direttrice, Anna Ponente, psicologa e psicoterapeuta. Da neolaureata ha iniziato a lavorare alla Noce come operatrice e per anni ha coordinato l'intero settore di intervento sociale. Noi qui siamo appunto con Anna. Quando è cominciato il tuo lavoro alla Noce? Il mio lavoro alla Noce è iniziato nel 1996. Subito dopo la laurea ho risposto ad una proposta di selezione per una borsa, una borsa di studio per educatore domiciliare e di seguito ho iniziato il mio percorso di formativo e anche poi di inserimento lavorativo alla Noce. C'è stato prima un momento di affiancamento, ovvero prima di iniziare ufficialmente il tuo ruolo? L'incarico come direttrice? Sì, io ho fatto un periodo di affiancamento con il precedente direttore, il pastore Sciotto. È stato un affiancamento molto positivo, molto costruttivo. Abbiamo lavorato insieme nel suo mandato e quindi è stato un affiancamento molto sereno. C'è da dire che io lavoro da 20 anni alla Noce, quindi da subito dopo laureata e questo in qualche modo ha anche agevolato perché conosco un po' la realtà, conosco anche il territorio, ho dei rapporti frequenti con il Comune, con l'Asp, quindi ho da questo punto di vista il vantaggio di essere una persona già inserita all'interno del territorio. Nella relazione al Sinodo, che è stato presentato al Sinodo, si fa riferimento a dei nuovi interventi che ha messo in campo il Centro Diaconale. Ce ne vuoi parlare? Sì, il Centro Diaconale ha avviato da alcuni anni, in collaborazione con anche organizzazioni svizzere, un progetto di sperimentazione nell'ambito della giustizia riparativa. Questo è un settore ancora in espansione, per il quale però abbiamo già dei protocolli di intesa, degli accordi, sempre col Ministero di Giustizia e attraverso questi accordi e questi protocolli noi seguiamo dei giovani adulti, dei minorenni che sono entrati nel circuito penale. E vogliamo magari spiegare che cos'è la giustizia riparativa per chi non... Allora, noi abbiamo diversi progetti nell'ambito della giustizia riparativa, per esempio abbiamo dei progetti di tutoraggio domiciliare, per cui seguiamo a casa sia il minore ma anche la famiglia, un percorso che è della durata variabile, sempre in raccordo con i servizi invianti, il servizio sociale. Poi abbiamo gli affidati dell'ufficio di esecuzione penale esterna e anche i giovani adulti che vengono alla Noce a fare un percorso che ha una durata variabile, affiancano i nostri operatori nei vari settori e quindi fanno una esperienza importante, sia da un punto di vista dell'apprendimento di un mestiere, di un lavoro, ma anche quello di entrare in relazione con tutte le figure professionali del centro diagonale e anche i volontari, volontari che vengono dalla Germania, da varie parti dell'Europa. Quindi è anche un'esperienza molto significativa sul piano dell'apertura all'esterno e anche sul piano della costruzione di legami affettivi, positivi, di fiducia rispetto anche alle esperienze precedenti, nel senso che molti di questi giovani, di questi minori provengono da famiglie che sono famiglie deprivate e poi anche al centro diagonale seguiamo con altri servizi e per i quali il percorso purtroppo è stato un percorso che li ha portati ad entrare per sbagliati motivi in questo circuito, quindi provengono da situazioni di deprivazione affettiva e l'occasione del percorso della noce è anche un'occasione di relazione, quindi una relazione attraverso la quale creare anche un legame di fiducia non soltanto all'interno della relazione individuale ma anche forse più sociale, quindi verso anche la comunità esterna. Una nuova occasione anche in un certo senso. E la noce, presso la noce ci sono anche due case alloggio, ce ne vuoi parlare perché nella relazione sempre del sinodo si dice che sono in atto dei cambiamenti, vuoi dirci in che senso? Sì, sì, allora sono due strutture che sono cambiate nel giro di alcuni anni, una è Casa dei Mirti, Casa dei Mirti originariamente si occupava di minori da 8 a 13 anni, adesso si occupa di minori stranieri non accompagnati, da lì dal luglio del 2011 abbiamo infatti accolto diciamo la richiesta del Ministero di occuparci di questi ragazzi che erano arrivati con l'emergenza Nord Africa e quindi abbiamo risposto immediatamente e abbiamo iniziato questa nuova esperienza. Questa è Casa dei Mirti che poi adesso è una struttura diciamo chiaccomista, nel senso che accoglie sia i ragazzi che arrivano a Pozzallo, a Lampedusa ma anche gli italiani, quindi è un'esperienza particolare, nuova da questo punto di vista. E ci sono prospettive di aumento di questa attività diciamo rivolta più agli italiani oltre che agli stranieri? Sì, nel senso che adesso la struttura può accogliere, è una struttura accreditata, quindi in convenzione con il Comune può accogliere 8 minori e in questo momento abbiamo 7 minori stranieri e un italiano, però sono previsti dei progetti di dimissione dei nostri ragazzi perché adesso lavorano, hanno progetti di vita autonomi, quindi hanno in programma di affittare le loro case o anche di trasferirsi e quindi sicuramente i posti che si libereranno potranno anche essere disponibili per i ragazzi italiani che transitoriamente vengono allontanati dalla famiglia e inseriti da noi. Sono tutti ragazzi inseriti con decreto del Tribunale per i minori, quindi con un tutore, un progetto specifico. L'altra casa all'oggio invece è casa di Batia. Casa di Batia è diventata una struttura di accoglienza per nuclei mamma e bambino. Questa è un'esperienza nuova che ci entusiasma particolarmente, risponde tantissimo anche questa alla vocazione del centro diaconale che è quella di occuparsi proprio della cura delle relazioni primarie, quindi la cura in particolar modo della relazione madre-bambino, in quanto proprio la relazione madre-bambino noi riteniamo che sia la base fondamentale, diciamo, per lo sviluppo della persona. E questa nuova occasione per noi anche di formazione, innanzitutto è una sfida nuova e questo ci ha portato nuovamente a mettere in campo una serie di incontri di formazione, di supervisioni. Ecco, quindi è anche un momento molto stimolante da questo punto di vista per la Noce, perché sono due strutture nuove che sono cambiate nel giro, diciamo, di pochi anni. Dopo una prima fase di difficoltà sono, diciamo, una fase anche abbastanza più tranquilla. Hai nominato le difficoltà in un tempo in cui ci sono tagli spietati al welfare, quali sono un po' le sfide che voi vi trovate ad affrontare? Allora, il centro diaconale dipende moltissimo dai finanziamenti dell'ente pubblico. Ultimamente però questi finanziamenti sono regolari. Io lavoro alla Noce da 20 anni e so bene che questo è un momento di transizione, nel senso che io mi aspetto certamente altri momenti di crisi, quali ci sono stati nell'ultimo periodo, negli anni stessi dell'ultima direzione. Ecco, quindi so che questo è un momento relativamente tranquillo, ma che probabilmente arriveranno altri momenti di difficoltà. Grazie all'Otto per Mille noi siamo riusciti a portare avanti queste strutture e, diciamo, appunto ad affrontare momenti molto difficili per il centro, per i dipendenti del centro diaconale. Il centro è una struttura grande che ha, appunto, molti professionisti e soprattutto a molte persone che credono molto nel loro lavoro e credono molto nel centro stesso, ecco, che hanno stabilito un legame molto importante, significativo con la Noce e quindi indirettamente con la Chiesa. E quali sono le prospettive, i sogni di questo gruppo? Ma in questo momento di passaggio, quindi anche un momento, diciamo, carico, carico di energie positive. In questo momento il desiderio è quello sicuramente di metterci in collegamento con le altre opere, di, diciamo, di approfittare della potenzialità, delle ricchezze che ci sono anche nelle altre opere. Noi abbiamo chiaramente tante conoscenze che risalgono anche agli anni precedenti, però è un momento in cui si possono mettere insieme, diciamo, queste risorse e anche poter pensare dei progetti insieme, elaborare qualcosa di nuovo che risponda al bisogno. Grazie a Danma Ponente. Grazie a voi. Un bocca al lupo per il lavoro. Grazie, grazie. Grazie.